Ma vado? Allora ci vediamo sabato 13 febbraio alle ore 14 a Selvatelle davanti alla chiesa in via San Lattaro poi dopo, dopodiché andremo a visitare un bellissimo borgo antico, ma antico davvero dove degusteremo formaggi, bruschette, vino e poi anche un primo dopodiché ci ritroviamo nuovamente da dove siamo partiti per finire in una bellissima cena che sarà fatta di risate, di scherzi e soprattutto musica e poi anche di parlare dell'associazione per gli eventuali eventi che verranno fatti nell'arco dell'anno perciò vi aspettiamo tutti numerosi, mi raccomando saremo fra amici, saremo con gente normale, seria e tranquilla in modo da passare una bellissima serata vi aspettiamo tutti il 13 febbraio alle ore 14 mi raccomando venite numerosi ciao a tutti